Musica Sun e Inai Caserta si incontrano questa mattina al Palazzo Melzia Santa Maria, io sono in compagnia del dottor Cangiano, buongiorno. Buongiorno a lei. Veterano delle telecamere di Safe News. Assolutamente sì, è un piacere. Ancora una volta per parlare di sicurezza sul lavoro, in particolar modo oggi legalità e tutela della salute e della sicurezza nelle trasformazioni del lavoro, cosa intendiamo? Assolutamente sì, noi siamo impegnati in una forte volontà di dare esaltazione alla prevenzione, perché la prevenzione per noi è la nuova missione dell'Istituto. Lo è divenuta dal 2000 e questa missione la portiamo su tutte quelle che sono le forme di formazione degli allievi, quindi dalle prime esperienze scolastiche. E oggi siamo qui all'università per apprendere e per dare quelle che sono le nostre esperienze. Noi abbiamo su Caserta circa 25.000 imprese, abbiamo circa 3.000 infortuni per ogni anno e la nostra volontà è quella di diminuire, ma vogliamo farlo anche attraverso il confronto con altre discipline. Oggi è la disciplina della facoltà di giurisprudenza, ma così vale per le altre forme di formazione, che sia ingegneria o quant'altro. Tutto per poter dare ai nostri futuri lavoratori o presenti lavoratori degli strumenti che valgano per diminuire il rischio sul lavoro. In che modo gli studenti, in particolar modo gli studenti di giurisprudenza di questa mattina, possono aiutare l'INAIL in quello che è il suo obiettivo? Noi vogliamo che loro aiutino in futuro. Qui avremo probabilmente futuri magistrati, futuri avvocati, avvocati magari d'azienda. Tutti dovrebbero avere però nel loro bagaglio culturale un'attenzione particolare al rispetto per quello che sarà il lavoratore. Il lavoratore è un soggetto che è comunque esposto al rischio, quali che siano le misure che vengono adottate. Sicuramente conoscere però gli strumenti per fare prevenzione e per diminuire la sicurezza può essere utile per ridurre questo rischio. La facoltà di giurisprudenza ci sarà utile per diffondere la parte della normativa. Altre facoltà ci saranno utili, magari ingegneria, per diffondere la parte tecnica. I prossimi eventi INEIL? I prossimi eventi INEIL, tra poco il rapporto regionale che dovrà essere presentato come ogni anno da parte della regione alla quale parteciperemo tutti quanti, noi direttori delle province e poi ci sarà anche l'evento nazionale proprio per diffondere quelli che sono i dati della gestione di quest'anno. La ringrazio. Grazie a lei. Grazie. Grazie. Grazie.